Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi 23 novembre, si tratta di giovedì. Oggi nei giornali non sono per niente affascinanti, vi dico velocemente le cose che mi sono divertite. Intanto l'intervista a Paduan, prima pagina della Repubblica, sempre più brutta, mentre all'interno Repubblica inizio ad abituarmi, inizio ad abituarmi alla grafica, inizio ad abituarmi al carattere di Eugenio, ma la prima pagina proprio non riesco a sopportarla. C'è un'intervista a Paduan, che è titolata in una specie di apertura di Repubblica, come può essere un'apertura oggi alla prima pagina di Repubblica, che parla sostanzialmente delle pensioni. Ma la cosa straordinaria è, ho fatto una cosa di sinistra, ma scusatemi, ma Paduan non era il tecnico? Cioè era un tecnico, secondo i giornali, tutti noi sapevamo che era il dalemiano, e c'è anche quell'aria dalemiana, quell'aria dolente, non simpatica, non empatica, mettiamola così. Ma insomma, il ministro tecnico inizia la prima domanda, Francesco Manacorda, e non mi ricordo chi altro l'intervista, gli chiede, ma lei è di sinistra, questa è una domanda importante, vi potreste mai immaginare una domanda accettabile, una risposta accettabile, se qualcuno dicesse sì, sono di destra? No, non sarebbe accettabile. Però se un ministro della Repubblica che è spacciato per tecnico alla prima domanda su Repubblica dice di essere di sinistra, grandi applausi, e poi attribuisce alla sinistra la sua riforma delle pensioni, che peraltro non è una riforma, ma è un fare quello che le riforme passate hanno chiesto che si facesse. Vabbè, la cosa straordinaria è che poi tu c'è il ministro dell'economia e il Corriere della Sera, il concorrente di Repubblica, ieri ci dice che al ministero dell'economia lavorava una persona che secondo la procura di Roma ha preso 220.000 euro per passare i segreti a Ernest Young. Questo lo dice ieri in prima pagina del Corriere della Sera. Allora tu c'è il ministro dell'economia per cui lavorava quella consulente, sei su Repubblica, il giornale giustizialista delle 10 domande a Berlusconi, anticorruzione, ci fanno due palle così sul paese più corrotto del mondo, tu c'è il ministro dell'economia e gli chiedi se non all'ultima domanda, lei che ne pensa della signora Masi che prende la 220.000 euro? e il ministro dice non rispondo sulle indagini in corso, ma porca puttana, ma allora, e tu non replichi, e allora, e vabbè, sono tutti come me quando ho intervisto Berlusconi, cioè parliamoci chiaro, sdraiati, il punto vero è che io non faccio il moralista, io sono berlusconiano, orrendo, micidiano, non sono Repubblica, il giornale più serio d'Italia, il giornale che quando cambia la grafica va dal presidente Mattarella, non sono quello che c'ha tre minuti, come dice Terravaglio, di servizi al Tg1, sono uno che fa la zuppa di porro, e io mi chiedo come mai uno viene, c'ha questa qui, in questo momento che ha questa indagine giudiziaria, e i giustizialisti di Repubblica si dimenticano di chiederlo al ministro tecnico di sinistra, boh, chiederemo anche a loro. Sulla questione del caso Masi, in realtà poi ci sono gli avvocati della difesa che parlano, ovviamente gli avvocati della difesa fanno parte del gruppo Ernest Young, perché fanno anche gli avvocati. Vi ripeto che su questa cosa bisogna andare a fondo, nel senso che fino a quando noi ragioniamo solo sulle carte dell'accusa, pensiamo che siano tutti colpevoli, poi bisogna fare i processi con le garanzie dei processi, e quindi intanto scopriamo una cosa sulla difesa di questa signora Masi, che non ci ha detto ovviamente Paduan, perché lui non parla delle indagini in corso, possono farlo ovviamente i consulenti di Ernest Young, che sono indagati ma che difendono la Masi, e per esempio ci dicono che i 220.000 euro spacciati ieri dal Corriere della Sera, sì certo sono 220.000 euro, ma in tre anni, e poi sì certo lei aveva una consulenza, ma questa consulenza era finita nel 2014 per Ernest Young, quindi negli ultimi tre anni non ha fatto la consulenza e non lavorava per Ernest Young. Non dico dunque che questa sia innocente, dico soltanto che i pezzetti del puzzle bisogna metterli tutti in ordine. Poi però leggo l'avvocato della Masi di Ernest Young che dice non ravvedevamo alcun conflitto di interessi, e allora no, porca puttana. Oggi Ernest Young si sta facendo due palle così, nell'ennesimo, oggi, lo cita il Corriere della Sera, ma lo cita anche Repubblica, l'ennesimo convegno contro la corruzione. Questi sono dei farisei, mi fanno schifo. Questi convegni sulla corruzione mi fanno vomitare. C'è gente che va lì e che ci spiega cos'è la corruzione, cos'è una corruzione, quanto sono corrotti in Italia, eccetera. I primi mentalmente a essere corrotti sono loro, che ci rompono le balle sulla corruzione, quando hanno il loro consulente indagato, ma certo, se il loro consulente è indagato, io lo sto difendendo il loro consulente è indagato, perché è loro, ma se fosse stato di Forza Italia, se fosse stato del PD, se fosse stato di qualche partito che era il Movimento 5 Stelle, beh, allora sarebbe stato un disastro, ma se il loro consulente... Vabbè, insomma, avete capito quello che voglio dire, questa merda di ipocrisia italiana. Mentre invece l'unico che si salva, oggi lo capisco da Gramellini, è Di Battista, perché non farà più politica. Chiedo, e credo al mio amico Ruggeri, lo troverete tra poco sul sito nicolaporro.it, la sua analisi su Di Battista, il motivo per il quale lui, molto furbamente il grande e il più grande pensatore politico del Movimento 5 Stelle, ovviamente, ovviamente, si non partecipa a queste elezioni avendo il vincolo di due mandati e sarà lì come un cincinnato, tornerà alle prossime, in cui avremo un Di Maio che non potrà più candidarsi, tutti i vertici del Movimento 5 Stelle che non potranno più candidarsi. Questo è un pensermale di Ruggeri? Non lo so, lui lo scrive, ma se oggi leggi Gramellini, che mi spiega quanto è bravo ad aver abbandonato il suo seggio di Battista, cioè non abbandonato il suo seggio, non ritornare più, abbandona la stanza dei bottoni, de che Gramellini? Questi non c'hanno la stanza dei bottoni, questi la stanza dei bottoni non c'entrano, già sanno che purtroppo ci sarà il grande inciucione e non potranno governare, ma comunque, abbandona, secondo Gramellini, la stanza dei bottoni, uggiosa, da quando i bottoni sono saldamente nelle mani della finanza internazionale, della finanza internazionale, sul Corriere della Sera, il giornale più vicino ai grandi, pochi, poveri poteri italiani, trovo in prima pagina che a comandare la finanza internazionale, che mi sembra una posizione un po' grillina, difende Dibba con le posizioni grilline. Dite che me lo sogno? No, non me lo sogno, perché Dibba Battista, in coincidenza col suo annuncio, dato ieri di non partecipare alle prossime competizioni elettorali, esce col suo libro della Mondadori. Nel suo libro della Mondadori cosa dice Dibba Battista? Come se Gramellini già lo sapesse. Oggi il fascismo è innocuo, il nemico è il capitalismo finanziario. Cioè Dibba Battista e Gramellini chiaramente vanno dritti contro il capitalismo finanziario, che è il loro grande nemico. Complimenti, Black Friday, oggi ho calcolato che sul Corriere della Sera ci sono almeno sei pagine di pubblicità su Black Friday, che io non so che cavolo di senso ci abbia, cioè lo so, compri delle cose scontatissime, è una cosa americana, come Halloween, fra vent'anni i nostri figli pensavano soltanto al Black Friday, è la consacrazione del consumismo, scusate, mi sono fissato anche con i comunisti, è la consacrazione del consumismo anglosassone, anche noi ci vedremo sto che Black Friday, chi se ne frega, come Halloween, prendiamocelo. Ma la cosa che mi diverte è che ci sono sul Corriere sei pagine su 64 di pubblicità del Black Friday, in realtà parliamone di questo fenomeno, cerchiamo di approfondirlo, invece di fare queste pagine leggere di cui io non capisco il senso, io ne approfondirei, ne parlerei di Black Friday, cosa che oggi molto bene fa il sole sulla concorrenza sleale dei giganti del web e il senso del Black Friday. Molto interessante, quindi solo 24 ore, se vi interessa guardarlo. Suppensioni ve ne ho parlato, Black Friday, caso Masi di Battista ve ne ho parlato, beh, fantastica, oggi nelle lettere che ho rato a Augas sulla questione del Virgilio riesce a dire sulle occupazioni, la repressione sulle occupazioni non serve a niente. Augas, è questo, e siete tutti così, la repressione, non è la repressione, mi dovete spiegare, se uno occupa un locale che non può occupare contro a legge, è repressione o legalità, la stessa che ci rompete le balle voi da anni, eh? Cos'è, repressione o legalità? Non c'entra niente la repressione, e poi dici, perché i fighetti occupano, perché poi dopo prenderanno il pezzo di Augas e quando gli diranno hai sbagliato a occupare, a prendere l'aula, a dormire nell'aula pubblica, impedire a quelli che vogliono studiare di studiare, eccetera, e poi dici, basta con la repressione, la repressione su occupazioni non serve a niente, non è la repressione, è la legalità che viene mantenuta, è fantastico, oggi Travaglio attacca Scalfari perché si è permesso di dire che tra Di Maio e Berlusconi voterebbe Di Maio e gli fa un mazzo così Travaglio a Scalfari e dice a Scalfari in attesa che Repubblica fondi la succursale di Silvio Cè, cioè il fatto che Scalfari non voglia Di Maio presidente del consiglio e chiaramente non vuole neanche Berlusconi ma che 3-2 preferisca Berlusconi diventa una specie di connivenza col nemico, d'altronde è normale perché il foglio del Movimento 5 Stelle cioè la stampa tra Padellaro e Travaglio non vedono l'ora di difendere i loro beniamini, io trovo straordinario l'attacco oggi a Scalfari di Travaglio bello come sempre quando Rampini parla di questioni economiche la vicenda sulla net neutrality cioè sulla possibilità di pagare in maniera differenziata l'accesso a internet che le telecom americane potrebbero voler dare è un tema complessissimo molto interessante come lo pone oggi Rampini su Repubblica in cui spiega la nouvelle vague Trumpiana ma spiega anche come era un po' ipocrita l'idea che tutti pagassero la stessa cifra e soltanto in pochi ne potessero trarre beneficio cioè quelli della Silicon Valley che era la ritorica della Silicon Valley direi che per oggi è tutto vi do appuntamento domani con la zuppa di porro e questa sera a 105 Matrix alle 19 su Radio 105 ciao